Ciao! Oggi volevo parlarvi di un film che è uscito, sì, da poco, sembra ormai da un mesetto, comunque da poco, che allora l'ho trovato molto divertente, molto, cioè anche se comunque molti han detto che è abbastanza scontato, ma questo perché? È scontato per il semplice motivo perché uno, ma magari l'hanno già sentito e non l'hanno già sentito parlare, ma secondo, perché comunque lo spoiler più grosso, più grosso, più grosso, ce l'hanno nella locandina, non so, sapete come è fatta la locandina, ecco, adesso vedi quando ve lo dirò, nella locandina, però comunque secondo me, a mio parere, come dire, a mio parere il film puntava tutto sul, dato che comunque la persona principale, magari la seconda persona principale, che non si vede mai, perché non si vede mai, magari lo si pensa una persona, un certo tipo di, come dichiaro, una persona con un certo tipo di nome, mentre alla fine si presenterà con un altro, ma secondo me era per il fatto di non fare la stessa cosa di un altro film, perché questo film è girato da Matt Bettinelli e Tyler Gillett, non li conosco, sono sincera, Tyler Gillett, e scusate se magari sbaglio la pronuncia, ma quando, sono nomi che non conosco, molto spero sbaglio la pronuncia, e questo film prende ispirazione liberamente dal film La figlia di Dracula, quindi chiaramente diciamo che si nota, come dire, alla fine la creatura vera e propria, la creatura vera e propria non ha il nome proprio del, ecco, dopo ve lo dirò, perché faccio, diciamo, faccio spoiler, faccio tutto, eccetera, e cambiano il nome, ma molto probabilmente gli cambiano il nome per non essere uguale a quello a cui si sono ispirati. Allora, c'è questa, allora, il film racconta, è molto carino, alcuni dicono che è un'occasione sprecata, sì, può essere, perché secondo me potevano fare di più, cioè nel senso potevano non fare di più, come dire, dare, come posso spiegare, innanzitutto non mettere una locandina del genere, perché alcuni magari, ecco, se lo sono già ciuccia, e poi comunque alcuni potevano andare di più, ma comunque è molto carino, è molto divertente, perché allora i personaggi non è che sono idioti, però sono quei classici ragazzi stupidi, come dire, non stupidi, è il classico gruppo di delinquenti, delinquentelli, delinquentelli che eseguono gli ordini senza sapere quello che fanno. Ecco, questo è il, la cosa, senza sapere quello che fanno. Quindi loro progettano un colpo, un colpo organizzato da una persona, che poi adesso vi spiego, da una persona, e che il loro obiettivo è rapire questa bambina, Abigail, e chiedere il riscatto al papà, perché il suo papà si dice, si sente dire, che è uno dei uomini più potenti d'America, e che alla fine si rivelerà, quello che dirà lei, la bambina, è Christoph Lambert, che cazzo, non so, Christoph Lazar, Christoph Lazar, esatto, e si rivelerà un boss del crimine, una roba, ecco, che poi alla fine non è, che poi alla fine non è. Quindi viene organizzato da questo signore, che alla fine è Lambert, era lui Lambert, e che alla fine è interpretato da Giancarlo Esposito, bravissimo, quello che adesso farà anche, l'ho letto, lo dico perché mi è saltato alla mente in questi giorni, l'ho letto quello che prenderà parte anche in Capitano America 4, adesso non prendo, e Giancarlo Esposito, e diciamo che questa cosa si rivelerà, diciamo, la loro trappola mortale, perché appena arrivati in questa casa, in questo castello, dove chiaramente è stato detto di portare la bambina, improvvisamente tutte le uscite si chiudono, diventa una specie di prigione, e firmeranno la loro condanna morte, perché lei si rivelerà la figlia di Dracula. Ecco, io, dicono molti che era, allora, Dracula in verità, comunque lui, come il padre, si vede alla fine, solo in un'immagine, cioè a parte nelle foto della casa, però a prescindere da quello, lui si fa vedere che è interpretato da Matthew Gold, bravissimo, Matthew Gold, bravissimo, sapete, penso tutti, chi sia, no, magari alcuni no, però Matthew Gold, penso un attore, adesso non mi ricordo cosa ha fatto, penso, ah ecco, si ha lavorato, credo, credo, se è lui, se è lui, con Woody Allen, in Match Point, adesso non mi ricordo se è lui, però credo che fosse lui, in Match Point, e lui non prende proprio il nome di Dracula, ma prende il nome stavolta di Christophe Lazar. Allora, l'hanno cambiato in modo da non renderlo uguale, no? Chiaramente, per non renderlo uguale al film, adesso non mi ricordo la data, della figlia di Dracula, che era ancora quel bianco e nero e tutto, ma gli ha messo il nome Christophe Lazar, e si vede solo alla fine, cioè, secondo me si vede solo alla fine, ma dà un'interpretazione anche alla fine veramente, veramente bella, per me era bravo solo, secondo me, anche in un, sì, magari in un'immagine di, in una sequenza di, come so, di pochi minuti, chiaramente non puoi giudicare come, però comunque per me, anche in quei pochi minuti, per me è stato bravo. E, allora, i ragazzi che la rapiscono sono uno più cretino dell'altro, cioè, tranne una, più cretino, ma non perché i personaggi è fatto male, ma proprio perché danno l'impressione di essere più scemo, uno più scemo dell'altro, tranne una ragazza che è Joy, che Joy è interpretato da Melissa Barbera, che è questa ragazza che stringe amicizia con Abigail, amicizia, per quello che può stringere amicizia con Abigail, e Abigail è interpretata da, scusate leggo, se no vi dico castronerie, Alicia Keir, Alicia Keir, e stringe amicizia con questa, con la bambina, ed è l'unica che comunque inizia, prova ad approcciarsi, perché è quella che inizialmente deve sorvegliarla. Poi ho visto che c'è con grandissimo mio piacere Kevin Durant, che per me è simpatico, ha lavorato molto spesso con Russell Crowe, è un grande amico di Russell Crowe, se voi vi ricordate in Robin Hood, lui fa Little John, credo, è anche un suo amico, anche un compagno di, come dire, lui suonano insieme, credo, suonavano insieme, credo, era veramente, su YouTube comunque trovate qualsiasi cosa, qualsiasi, cioè diciamo che cantavano insieme, credo, cioè su YouTube trovate qualsiasi cosa di loro, veramente, perché poi comunque Russell Crowe ha un gruppo suo, non avete potuto notare, come un gruppo suo, e all'inizio, adesso non più, perché adesso ha una band sua, un po' come Johnny Depp e Meryl Manson, che, no, Johnny Depp che è il vampire, una roba, ecco, prima però, quando i tempi si sono conosciuti, credo, sul set di Robin Hood, penso proprio, credo, eh, non so se prima o durante, però si sono conosciuti sul set, penso, di Robin Hood, e lì da lì è nata la loro amicizia e ha continuato anche la collaborazione per scrivere musica, eccetera, eccetera, quindi è simpaticissimo, perché voi se poi mi vedete in interviste, sono simpatici, tutte e due scherzano, eccetera, quindi diciamo, e purtroppo c'è anche, purtroppo sì, e anche la presenza, sempre con il mio grande piacere, sempre, la presenza di Angus Gold, Angus Gold è l'attore che purtroppo è morto con l'ioforia, no, che è morto durante le riprese, questa cosa lo vedo che non c'è stata, non c'è stato un problema, perché è fatto benissimo, montaggio diretto, non c'è stato un problema, che purtroppo lui è deceduto, però purtroppo è venuto a mancare e si sa come è andata. Bene, allora, diciamo che viene questa, allora, loro sono in questo maniero e all'infine questa bambina si rivela un vampiro e questa cosa diventa un gioco fra di loro, perché lei comunque, diciamo che lei è stata, lei l'organizzatrice di tutto, lei insieme a Giancarlo Esposito, lo chiamo Giancarlo Esposito, perché non so come è, Lambert, sarà Lambert, Giancarlo poi a portarli proprio perché comunque per solamente, per esclusivamente, per nutrimento. Ecco, poi però si scopre comunque che ognuno di questi ragazzi non sono dei santi, cioè ognuno di loro ha lavorato per suo padre e non sono, c'è penso, tranne, non so se la ragazza, però comunque alcuni, tutti, ognuno di loro ha un passato non proprio bello. Quindi praticamente lei dici, loro gli dicono a un certo punto a lei, quando riescono ben o meno a calmarla, a prenderla, a metterla in gabbia, che poi non serve metterla in gabbia, perché comunque i vampiri, poi comunque vi farò, i vampiri hanno una forza superiore a quella umana, anche se sono piccoli, perché lei comunque è mortale, perché lei dice sei brava a manipolare le persone, dice sì ho qualche secolo di esperienza, quindi, per dire, e quando lei gli parla dice sì ok io sono un mostro, va bene, però voi non siete da meno, perché comunque ognuno di voi, se voi, se io vi dico quello che avete fatto, non siete santi, no? E quindi davvero, ognuno di loro gli dice infatti, infatti si scopre che ognuno di loro, anche la ragazza Joy che gli ha, è una madre che ha abbandonato il figlio, che un po' si è comportata male e che si sentiva anche in colpa, chiaramente. E poi alla fine quella che riesce a redimersi grazie a Davide, in un certo senso, perché, allora, l'unica che comunque instaura un rapporto, si può dire, d'amicizia, perché lei comunque, secondo amicizia, è anche materno, a mio parere, è un po' ridicola questa cosa, però un po' materno, perché, infatti, come tema c'è il riscatto e la redenzione, secondo me, perché tra lei e Abiga e si instaura questo rapporto, alla fine si mettono d'accordo di uccidere l'ultimo, perché alla fine uno di loro diventa un vampiro, perché si fa trasformare da, 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 dall'amico Lee Lambert, dall'amico Lee Lambert, diventa un vampiro, perché nel casino, ovviamente, diventa un vampiro, e alla fine lui cerca di uccidere Abiga, però chiaramente, adesso non mi ricordo chi, dei, 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 degli attori, mi sembra, mi ricordo che uno di loro, credo, se, no, se, mi, se, mi, se, mi, se, mi, credo, se, mi, non lo so, uno di loro, credo, quello, che alla fine si trasforma, che ce n'è, c'è sia una ragazza, che c'è sia la, no, se, mi è la ragazza che trasformano all'inizio, che si trasforma all'inizio, che Abiga e poi la manovra per far fare quello che vuole lei, e diventa un vampiro. Poi ce n'è un altro di, ecco, non l'ho segnato, c'è un altro personaggio, alla fine, sempre dei ragazzi, che comunque l'ultimo che rimane, che è l'ultimo quello, ultimo che rimane, è che si trasforma, anche lui, in vampiro, grazie a Giancarlo Esposito, che è Lambert, proprio perché lui vuole vendicarsi di Abiga e il perché l'ha trasformato. Ecco, lui, giustamente, cosa fa? Chiaramente porta a termine, vuole ammazzare lui Abiga e Abiga per prenderne poi tutto, il resto, il comando, roba del genere, la solita roba, però c'è di mezzo, comunque, non conosce, come dire, non calcola il fatto che ci può essere anche Joy. Joy, in questo caso, l'aiuta, perché comunque Abiga gli dice, tu aiutami, aiutami a batterlo, perché io non riesco, sono troppo piccola, non ce la faccio a batterlo, e io ti lascerò andare, perché tu, ho visto che tu sei una brava persona, mi hai aiutato, mi hai difeso, e poi devi andare e tornare da tuo figlio. Quindi è una sorta di redenzione per lei, cioè Abiga, diciamo, che diventa come una figlia, la difende, cioè, diciamo, ha una sorta di significato anche questo, molto carino, molto carino. Infatti, poi, c'è il tema del legame disfunzionale di Abiga e col papà, diciamo che è un rapporto abbastanza complicato, perché Abiga e con Calafine, suo padre si vede, guarda, tu non ci sei mai, tu, lei è stata lei a salvarmi, non sei stato tu, tu, lei mi ha salvato quando tu non c'eri, quindi mi ha salvato la vita, quindi lei merita la nostra liberazione. E chiaramente la nostra liberazione, poi c'è la sopravvivenza e il rapporto, l'apparenza. Allora, la sopravvivenza, vabbè, chiaramente la sopravvivenza riguarda tutti, sia Abiga che deve mangiare e sia i ragazzi che devono sopravvivere per tenersi in vita, ecco quello, chiaramente. E chiaramente l'apparenza, l'apparenza è fondamentale in questo film, perché diciamo che ogni cosa non è mai quello che sembra, nel senso tu rapisci una bambina di 10 anni, la pensi in difesa, tutto il resto fa le moine di qua e di là, ma alla fine si scopre un po' un mostro, capito? Quindi bene o male sono le apparenze che come al solito fanno da padrone. Bene, ok, io ho detto bene o male quello che dovevo dire, cioè ovvio ho espresso a caldo, come si dice, è quello che pensavo e nulla. Vi saluto e ditemi voi se volete quello che pensate e ciao!